I minori, dobbiamo ricordare che un minore che assiste a scene di violenza all'interno del contesto familiare subisce un danno esattamente come se la violenza fosse agita proprio su di lui. Questo lo dice la legge del 2019. La violenza assistita è una forma di maltrattamento su minore. Nella maggior parte delle situazioni di violenza domestica, infatti, i figli assistono in ermi e non di rado subiscono direttamente. Vivere in questi contesti familiari ha conseguenze traumatiche. I danni della violenza sono davvero profondi. A parte i danni fisici che talvolta sono molto evidenti, ci sono proprio anche delle sindrome che nel lungo tempo lasciano degli stati emotivi davvero fragili, lasciano situazioni di ansia, lasciano una difficoltà anche a immaginarsi in un contesto. Da gennaio ad oggi i minori accolti nelle case di prima e seconda accoglienza ad Arezzo sono stati dieci. Statisticamente è dimostrato che bambini maschi che vivono in una situazione dove il papà ha maltratto la mamma poi tendono nella loro vita adulta a riprodurre questo modello, questo schema, soprattutto in situazioni di stress idem per le donne, per le bambine che hanno visto la madre appunto succube di relazioni violente e poi tenderanno nell'età adulta a rimettere in atto questo modello. Una speranza c'è, cioè prima vengono sottratti dall'ambiente di violenza che vivono quotidianamente e prima riescono a riparare il danno prodotto. Numeri da brividi anche quelli relativi alla violenza di genere nei primi mesi del 2022. Nell'Asla Toscana Sud-Est si contano infatti 8 abusi, 183 casi di maltrattamento su donne e 51 su minori. Aumentano anche gli accessi al pronto soccorso rispetto allo stesso periodo del 2021, numeri dunque che indicano un'impennata di violenza. Il pronto donna nel 2022 ha già accolto le richieste di aiuto di 307 donne, di queste 290 sono state accolte presso il centro antiviolenza. Nel 2021 erano state 267, 37 poi interventi in emergenza, 10 in più rispetto all'anno precedente. All'interno del percorso di uscita dalla violenza la donna può usufruire di consulenze legali, di consulenze psicologiche. Il gruppo di autoaiuto che è in una fase di rischio più basso, è un momento di ricostruzione anche di una rete amicale, di una rete di solidarietà fra di loro. È un momento molto importante e riparativo nel percorso di uscita dalla violenza. Ovviamente faccio tutta la parte di presa in carico delle emergenze, quindi casa rifugio, case di seconda accoglienza. Uno scenario desolante con numeri che sottolineano come la strada verso l'eliminazione del fenomeno sia ancora in salita. È importante che ciascuno di noi proprio si impegni nel quotidiano, nell'utilizzo delle parole, nel dire no a qualsiasi forma di violenza, possa vedere anche in maniera indiretta o subire direttamente. Per cui è proprio importante un'azione di volontà.